Va bene, non c'era bisogno di niente, guardi, le ho già detto ieri sera che le cose accadono perché debbono accadere. Mattarella ha una biografia che si imponeva su tanti altri candidati e spesso in politica, qualche volta no, ma spesso in politica la forza della razionalità si impone. È successo che abbiamo eletto il miglior Presidente della Repubblica.